E' un bel periodo, sto lavorando molto bene Mi sento bene, anche i bullpen li sto tirando molto bene Sto bene Sto cercando comunque di tirare un po' sulla squadra Visto che al momento siamo un po' in difficoltà con i lanciatori Dobbiamo un po' inventarci il gioco sul momento E sto cercando comunque di dare il più possibile Questa è stata la chiave strategica contro i battitori del Nettuno questa sera Sono battitori che vanno molto aggressivi, che vanno, battono spesso con due strike No, in effetti sono molto aggressivi Ho fatto molta più fatica che contro Rimini settimana scorsa per esempio Sono molto aggressivi, sono ragazzi giovani, si può capire perché siano aggressivi Niente, io sto cercando di giocare al massimo, meglio che posso E giocare lancio per lancio Sto giocando molto sugli effetti Visto che prima di Rimini stavo giocando solo con due effetti Adesso sto cercando di tenere un po' più di lanci Ascolta, ti hanno reinventato come partente dopo due o tre stagioni Hai giocato soprattutto come rilievo, qualche difficoltà, ti trovi bene? No, io parto come rilievo, come tutti i giovani quando arrivano sono sempre rilievi Ho fatto un periodo da partente, sono tornato rilievo Adesso sono partente e mi sento bene come partente Mi sento molto meglio come partente che come rilievo, sinceramente Grazie